zio hack dal 1998 il numero uno del miglioramento personale underground eccoci qui podcast 221 mi raccomando ascoltate anche gli altri sul canale abbonatevi eccetera allora dal 1998 faccio questo lavoro di divulgazione online e devo dire che ai tempi esistevano già i fuffaroli solo che non si chiamavano così oggi si è sparsa una moda tutti sono dei lottatori contro la fuffa tutti qualcuno che ha fuffaroli qualcun altro paraguru ecco io sono tra i primi fuffaroli paraguru quindi vedete voi però qui c'è un problema grosso su cui dobbiamo fare un po di metacognizione altrimenti detta ragionare faccio questa strana attività come diceva george carlin pensare no pensare e non esiste nessuno al cento per cento senza fuffa tutti sbagliano quindi da qui chiamare gli altri puntare il dito chiamare gli altri fuffaroli è un po un'attività illegittima poi vedremo vedremo secondo me i criteri da usare soggettivi miei voglio darvi tre criteri per per valutare però ricordatevi una cosa appunto che anche il più grande fuffarolo che esiste non è cento per cento fuffa una buona quantità di cose le dirà corrette e poi ci saranno delle cose che fanno parte del suo marketing io ai tempi li chiamavo i marchettari è un discorso un po diverso rispetto alla fuffa anche il più corretto divulgatore fattuale italiano può sbagliarsi ad esempio quando dicono fanno fanno di tutto un fascio della pnl dicono che pseudoscienza l'ho già detto lo voglio ripetere uno questo lo dice già il uno dei co fondatori richard bundler basta ascoltare un paio di discorsi suoi in uno su due lo dirà che la pnl non è scientifica secondo ci sono degli aspetti della pnl che pragmaticamente semplicemente sono anche su adesso sul mio canale youtube cercate gli nomi felici cercare cose se uno la tecnica per per i mal di testa se uno li prova e oggettivamente su un po di persone vedrà che molto spesso funzionano e sono un modo per addomesticare l'effetto placebo ma lasciando stare appunto la pragmatica che secondo me è importante perché ci fornisce delle tecnologie prima che poi la scienza le vada a validare o meno o meno ecco che quando qualcosa la scienza lo invalida completamente ecco che allora è tutto completamente pseudo scientifico ma c'è un pezzo di pnl applicata su se stessi che è anche nella mia enciclopedia della pnl che se uno si scrive la mia newsletter piano piano con un po di marketing anche aggressivo chiedo scusa vecchio stile arriva dicendo compra quello compro questo ma è anche nell'interesse di chi partecipa perché poi chi lo fa di solito è molto contento ma anche lì c'è dentro della della roba interessante che uno può provare e verificare se funziona o meno tanto è vero che molte di queste pratiche oggi sono incorporate nella l'up set and in committen therapy di steven ace che appunto le ingloba e quindi e quindi a questo punto dc se ed è validata scientificamente come una psicoterapia se non sbaglio cognitivo comportamentale di terzo livello ma lì queste cose poi scientifiche le lascio ad altri perché io sono primariamente ormai ho trovato il mio posto nel mondo sono primariamente un tecnologo e la tecnologia crea cose nuove cose che non c'erano mentre la scienza scopre cose che già c'erano come la forza di gravità e eccetera e tutta quasi tutta una buona parte della scienza del passato è pseudo scienza è fuffa cioè uno e ci sono ci sono per carità oggi che si mette a curare le persone con i cinque umori e queste cose e ci sono e ci sono sta facendo una cosa che non è in linea con i tempi quindi come come riconosciamo un neuroscienziato un filosofo vero uno psicologo vero un medico da un marketer ecco il modo che vi propongo è questo allora prima di tutto dovete sempre non fatevi prendere dal titolo quindi quando una persona ripetutamente dice io sono medico chi è questo ma io sono sono così chi è questo io sono un neuroscienziato chi è questo sbagliato bisogna guardare quello che dicono e il rapporto segnale rumore che in questo caso vuol dire quanto è retorica quanto è sofismo linguistico quanto è paroloni termini e quanto è sostanza di materiale che posso usare sempre ricordatevi il podcast della filosofia e che come lo posso usare è la domanda più importante quindi state attenti che oggi guardano la gente per i numeri e per la legge del potere che dovreste conoscere tutti se mi seguite mai se pensi a quanto è scema la persona media il 50 per cento ancora più scemo quindi la maggioranza purtroppo fa così ed è un problema perché poi politici seguono la maggioranza e quindi capite il perché di certe scelte e di certi comportamenti ripeto i politici seguono la maggioranza vuol dire che se la maggioranza cambia modo di pensare riguardo a un tema delicato i politici cambiano modo di pensare perché riflettono questa cosa quindi lasciate da parte per un attimo l'etichetta il titolo che legittimo è quella persona io lo rispetto che una persona studiato però guardate quello che fa spegnete come si dice l'audio guarda quello che fa dicevo io ai tempi della seduzione non guardare quello che dice guarda da cose attratta quella persona non guarda nei comportamenti non guardare che ti dice ti amo ti amo se la persona più tenera ti voglio tanto bene o non sai quanto ti amo amore 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 e me lo sento dentro ma poi è un'altra cosa ecco e poi bisogna avere il coraggio dell'azione quindi smettere di seguire di dare valore a persone che si dimostrano ripetutamente interessate solo ai numeri alla retorica a questi concetti e tutti noi lo siamo oggi è che vogliamo perché vogliamo in qualche modo raggiungere toccare il maggior numero di persone possibile quindi cessare a un certo punto di dire no questa persona per i contenuti non mi piace per quello che fa per i comportamenti per il fatto che vede i suoi follower come dei maiali di cui usare tutto di cui spennagli i risparmi sudati con le figurine altrimenti chiamati nft e tutte queste cose ecco il caso di smettere di seguirlo però sempre facendo attenzione alla regola di mio padre che era questa diceva nella mia famiglia c'è un alto grado di volgarità che è quella di non tagliarsi le palle per far dispetto alla moglie quindi se qualcosa è utile usatelo però a mio parere avendo appena erogato la mia community un ampio finanziamento un influencer culturale italiano che si batte sotto certi aspetti da tempo contro la fuffa avendo supportato quello con un importo anche secondo me significativo ecco che cerchiamo di supportare chi lo merita davvero ecco questa è la cosa importante come lo si vede da come si comporta da quello che fa e dalle persone che frequenta quindi valutate voi se poi i titoli che queste persone hanno e si danno di varie categorie sono leciti alla prossima ciao a tutti un grosso abbraccio non di luce dallo zioac di migliorati.org e ecnews.net che è il mio blog dove ci sono più che altro promozioni di prodotti commerciali ve lo dico già aspetta aspetta un post dictum mi sono dimenticato di dirvi un'altra cosa che secondo me come concetto è anche importante se fai un lavoro di ricerca a livello tecnologico di frontiera la fuffa è inevitabile quindi ancora oggi io avete visto sul su youtube che a questo punto dovrebbe aver raggiunto i 10.000 follower dove ho fatto uno short su ad esempio l'Apollo Neuro l'Apollo Neuro ha tra poco nove ricerche scientifiche pubblicate è una tecnologia avevo già parlato a differenza tra tecnologia e scienza ma l'ho provato e non funziona un cazzo ecco è quello il punto se provi le cose alla frontiera della scienza tanti integratori ho provato tante cose avrai una montagna di cazzate dentro a casa tua io ce l'ho in realtà ce l'ha Gianfranco uno dei miei tecnici video perché gliel'ho scaricata tutta lui perché non potevo più vedere tutte quelle cose quindi sbagliare ecco quel che dicevo all'inizio tutti sbagliano nessuno è 100% esente fuffa ecco che sbagliare è parte della ricerca e quindi dobbiamo accettare il fatto che se si vuole fare qualcosa di valido ci saranno ci saranno gli errori e va bene così grazie per aver ascoltato fino qui se ti interessano gli argomenti del miglioramento personale scientificamente basato life hacking, bio hacking, integratori, benessere psicologico, apprendimento, neuroscienze e transpersonalità segui lo ZioH in ogni suo canale digitale ciascuno con contenuti gratuiti e unici in particolare su Telegram trovi molti audio esclusivi cerca queste quattro lettere senza spazi Zio con H di hotel su Telegram visita il suo sito migliorati.org